In attesa di un intervento risolutore, sperando che ci sia davvero, cresce il disagio tra i cittadini di Frosolone e dei paesi vicini. Il collegamento con Campobasso è ormai andato a farsi benedire e ci vorrà del tempo prima di poter tornare a usufruire della fresilia. Collegamento vitale per le decine di imprese della zona, ma anche per tanti cittadini che ogni giorno per lavoro o altri impegni vanno e vengono dal capologo di regione. Il percorso alternativo non è di certo dei più agevoli. Facciamo un giro enorme. Dopo 15-20 anni questa strada è finita. Per andare a Campobasso ci sono tanti problemi. Dobbiamo fare un giro enorme. La benzina costa, la nafta costa. Veniamo tagliati fuori, anche perché non c'è una predisposizione di un percorso alternativo valido quando riguarda gli automezzi pesanti. Ritengo che senza dubbio vada fatto immediatamente un tipo di intervento da mettere perlomeno la possibilità di poter magari percorrere la strada a senso alternato. Una perdita per Frosolone, per gente che passava di qui, adesso vanno in giro a largo. Frosolone è già stato abbandonato. Non c'è rimasto nessuno, sia come lavoro, come tante cose. E questa strada ci ha finito, ci ha proprio condannato. Facciamo la strada vecchia per forza, per San Pietro. Però tocca vedere quanto tempo rimane chiusa questa fresiglia. Un danno. Un danno, sì. Soprattutto per l'attività commerciale. Dovevano intervenire già da qualche mese fa, che cosa che non hanno fatto, e poi si chiude. Dicevano la gente, ma fra poco chiudono la fresiglia, fra poco chiudono la fresiglia e di fatto hanno chiuso la fresiglia. Dovrebbero intervenire con i mezzi che ci stanno oggi, scavatori, palmeccani. Nel giro di due giorni la potrebbero riaprire. Parecchi lavorano a Campobasso e sono costretti ad allungare di circa un quarto d'ora per arrivare nel Capoluogo. Speriamo che facciano i lavori, che vengono stanziati i soldi. È diventato un problema per raggiungere Campobasso, soprattutto perché bisogna fare il giro per Boiano. E quindi la strada si allunga, si allungano i tempi ed è un problema. Il disagio causato dalla chiusura della strada si avverte anche nei paesi del circondario, come Duronia, Torella, Molise e Sant'Elena Sannita. C'è rabbia anche perché ci si poteva pensare prima, visto che i problemi della fresiglia erano stati segnalati già da molto tempo. Dovevano vedere prima se la strada era una zona franosa o meno. Era una cosa che dovevano verificare prima, però purtroppo questo lanno sono anni che esiste. E nessuno è intervenuto. E nessuno è intervenuto. E' a Torella perché noi non abbiamo sbocco, non per Campobasso né per Isegna, questo è tutto. Perché il rivolo per esempio non si apre ancora e allora stiamo isolati pure noi. Sant'Elena è interessato per i trasporti delle macchine, autobus, autocarri e tutto. E comunque la situazione è pietosa. Già da prima era in condizioni non ottimali. Adesso sicuramente un grossissimo handicap per tutto l'Alto Molise.